Radiofonica.com Salve a tutti, sono Gian Capriosca, faccio musica cantatoriale e canzoni che parlano di droga, poeti, vino, pazzoidi, furiosi e amore anche. Sì, amore. Mi trovate, ancora non mi trovate, anzi perché ho registrato dei pezzi da poco, li devo caricare su YouTube e su SoundCloud, ma lo farò. Però mi trovate su Facebook con il nome Gian Capriosca, ma aggiungete l'amicizia, casomai poi ci prendiamo una birra e ne riparliamo. Se no, venite al 110 stasera che c'è l'Uni Music Contest a cui parteciperò. Poi suono con liquidamento acustico, facciamo Stoner Punk Blues Fraido Demenziale e ci piace molto, ci divertiamo parecchio. Siamo in due chitarre e batteria e ci piace suonare al laboratorio musicale Fuori Tempo, dove vochiamo il nostro signore Borgoroz. E per il resto niente, insomma. Adesso stiamo registrando i pezzi, quindi prima o poi faremo qualcosa. Intanto tenetevi aggiornati, pagina Facebook, l'inquinamento acustico, L'apostrofo, non gli inquinamento acustico, l'inquinamento acustico e Gian Capriosca sempre. Ciao, qui è tutto. Radiofonica.com